Salta l'udienza già fissata per il 22 luglio in Cassazione del processo per la morte della studentessa genovese Martina Rossi in seguito al ricorso presentato recentemente da Alessandro Albertoni che si aggiunge a quello già noto presentato dall'altro imputato, Luca Vanneschi. L'udienza si terrà nell'ultima sessione estiva, probabilmente alla fine di agosto. Nei prossimi giorni sarà fissata la data. Per la morte di Martina Rossi in Spagna, avvenuta dieci anni fa, sono stati condannati Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a tre anni per tentato stupro di gruppo. È il verdetto del processo bis di secondo grado celebrato a Firenze sulla vicenda dell'allora ventenne genovese morte il 3 agosto 2011 precipitando da un balcone al sesto piano di un hotel a Palma di Mallorca dove era in vacanza e dove aveva incontrato i giovani di Castiglionfibocchi della provincia di Arezzo, oggi 31 anni.